ciao ciao a tutti dal castello di cuar poche parole sono sopra casa ok questo è il sentiero del beato emerico una bella gallopata in salita ok ma vi porterò adesso non parliamo di questo vi porterò qua allora posizioniamo il telefonino orizzontale come mi è stato detto che va fatto si fanno così i video youtube e non lo sapevo allora si impara tutto ieri vi ho lasciato con un post cosa significa altra mi avete risposto in molti avete risposto bene altra deriva dal latino dalla parola altera quindi alterare riparare riparare qualcosa di rotto rotto tra virgolette ovviamente infatti in questo modo i due fondatori hanno sono arrivati a creare il loro primo prototipo di scarpa mettendo vari mettendo provando varie scarpe mettendo all'interno di questo fornello microonde scaldando tagliando l'intersuola e rincollando il tutto quindi cosa hanno scoperto cosa hanno fatto hanno creato il drop zero poche parole tra punta e tallone non c'è differenza è tutto allo stesso livello ecco cosa significa drop o come lo chiamano anche in altra balance cushioning platform ok qui nella stessa altezza poche parole serve pensivamente per correre meglio il piede appoggia meglio in fase di appoggio di spinta ok ma vedremo tutte queste cose più avanti altra è un marchio nuovo un marchio recente è nato nel 2009 nel 2018 viene acquisito dal gruppo vfvf corporation che gestisce anche timberland supreme vans kipling tantissimi marchi tantissimi marchi in ottimo tantissimi importanti e quindi north face anche ok quindi vf corporation ha acquisito il marchio altra lo sta sviluppando ok io parlo per quanto riguarda la rete italiana e ho avuto la fortuna di conoscere i vari responsabili ed è ragazzi hanno un'esperienza pazzesca ma questi magari ne parleremo più avanti magari riusciamo anche a parlare con loro magari ci potranno dare qualche nuova chicca ok magari presentare la rivera o magari ci daranno dei consigli su una nuova scarpa che arriverà vedremo tutto ok vedremo molto tutto molto molto più avanti nel frattempo stiamo scendendo giù dal sentiero eccoci qua io non posso correre premere mia gamba sinistra quindi vi lascio godere a voi questo spettacolo ok comunque questa è sempre la parte iniziale del sentiero del beato allora ritorniamo a noi parliamo di altra allora impareremo e conosceremo il significato di food shape di drop zero di gator di inner flex che è una cosa favolosa che ha creato altra per rendere la carpa più la scarpa più elastico più veloce più elastica più veloce mi impappino spesso devo parlare un po più piano mi hanno detto quindi cosa in come iniziamo iniziamo a parlando di una delle mie scarpe preferite io ho due modelli preferiti per quanto riguarda il trade la timp 2 ma adesso arriverà la timp 3 e la olympus 4 ok che nella nella versione in arrivo ok per il 2021 cambia semplicemente di colore mentre per quanto riguarda la timp 3 piccola chicca cambierà l'upper in per cui cambierà la tomaia la sua la rimane la stessa la max track anche perché è una bomba d'accordo quindi perché cambiarla un'altra curiosità sapete cosa significa o meglio nelle varie versioni 2.5 e 3.0 qual è la differenza cosa differisce tra una versione e l'altra anche questo ve lo spiegherò più avanti adesso parliamo dell'altra olympus 4 una scarpa da trail bella una giappona bella alta che protegge il piede un poche parole correre come in un salotto ok io le ho attualmente al piede eccole eccole qui chiaramente non faremo le recensioni di questo paio che io ai piedi andremo da egon a tecno sport che è il negozio altra per quanto riguarda la val d'aosta e vediamo vi spiego un po come questa bellissima scarpa è come è stata concepita le nuove tecnologie come vi ho detto innerflex foot shape e tante altre cose ok anche il cambiamento del del tallone che è più avvolgente più alto la scanalatura che c'è dietro nel tallone della scarpa cosa significa da cosa serve vedrete tutto nel frattempo salutiamo il castello e andiamo a conoscere non posso correre no no non si può ricorrere si può fa nulla si può fa nulla tranquilli dobbiamo aspettare ma aspettare questa gamba deve vedere funziona bene quindi niente vi saluto e ci si vede da ego andiamo andiamo a provare a vedere queste scarpe ciao ed eccoci qua siamo appena usciti da tecno sport e grazie a ego eccole le altre olympus andiamo a casa a proposito andiamo a casa adesso dai ciao 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 ciao